La microinvasività trova sicuramente un elemento cardine nell'utilizzo di uno strumento come il microscopio operatorio. Vedo una grande differenza in quello che faccio. Ci dà sicuramente la possibilità di essere più precisi, quindi anche avere un risultato nel tempo migliore. Questo è un microscopio maneggevole, delicato, leggero e poi riesco, come dice Roberto, a muoverlo con gli occhi quando c'è una necessità. È realmente, realmente, realmente un movimento molto fluido, molto, molto fluido.